Il gruppo economico sta elaborando il piano strategico nazionale per il gas naturale nucleo, inserendo il ricastificato di poter pedo per tutti. Consigliere Vascala, non entriamo in questioni personalistiche. Allora, scusate, il Presidente sono io e il Paolo io. Consigliere, scusate, scusate, ho già richiamato il Consigliere Vascala che si mandetta al punto d'ordine del giorno per l'elezione del Presidente. Perfetto. Quindi la prego, Consigliere Vascala, per mantenere il Consigliere Vascala e il Paolo io. Assolutamente, però le ricordo che c'è un punto al punto d'ordine del giorno, è il Paolo rispettato. I ricordi che torni, non mangiare, non venire, non si sa che i ricordi. Allora, scusate, per favore. I ricordi molto. Scusate, prego alle Forze dell'Ordine di intervenire, per favore. Non si può andare avanti. E su più migliora perdente delle spiegazioni che dovrebbero. Consigliere Vascala, glielo dico nuovamente. La prego di mantenere e di mantenersi sul punto all'ordine del giorno, altrimenti sarò costretto a togliere la parola. Abbiamo la verità un'altra, invece, che abbiamo chiesto l'esprima, sicuramente prima della salute lavorare, questo nuovo sito militare. Alla cambiato sindaco, con un contatto con gli altri candidati, e oggi la sindaco è un punto.